E' un bisogno genetico, è qualcosa che non si può insegnare, è qualcosa di isterico che parte dal tuo corredo genetico. E' qualcosa che non si può poi così tanto dimostrare, è un corredo genetico, qualcosa che storbia la realtà. Più umana perché quella è la vera qualità dell'umana specie. E' un corredo genetico, qualcosa di cui essere incredulo. Perché sovrasta tutto questa iniezione di mancato coraggio. Di fronte alla gente che vuole che siamo solo macchine incredule. Di fronte a corredo genetico.